buongiorno a tutti e grazie per essere con noi anche oggi in questo appuntamento a spasso nel mondo del coding con un personaggio particolarmente simpatico che ci farà scoprire il lato più tenero del coding prima di entrare nel vivo di ciò che ci aspetta oggi e ci aspetta oltre a una bravissima insegnante oltre a un grande partner anche una grandissima sorpresa per voi vi ricordo che il webinar di oggi sta venendo in modalità webcast questo significa che non potete interagire con noi a voce anche perché siete davvero tanti di questo vi ringrazio come sempre perché insomma non è scontato in generale sicuramente non è scontato con questo caldo e in quest'anno anomalo quindi non potete appunto interagire con noi a voce però potete mandarci tutti i vostri commenti le vostre osservazioni le vostre domande attraverso lo spazio per l'appunto domande che trovate nel box dedicato nella piattaforma che stiamo utilizzando proprio per tenere il webinar e cercheremo di rispondervi nel corso dell'incontro non preoccupatevi se qualche passaggio non vi risulta chiarissimo se andiamo troppo veloci o se volete riguardarvi qualcosa perché parte dell'incontro di oggi saranno proprio delle idee di lezioni pratiche non ve ne preoccupate appunto perché le slide le riceverete già oggi oggi stesso in serata così come la registrazione del dell'incontro di oggi per cui potrete riguardarlo tutte le volte volete anche condividerlo se volete con amici con colleghi e per quanto riguarda invece l'attestato di partecipazione che so che una cosa a cui tenete molto vi arriverà tra circa un paio di giorni in una mese prata quindi non disperate però stasera avrete già tutti i materiali che vi andremo a proporre come sa chi ci segue già da un po il webinar di oggi fa parte di una filone che abbiamo dedicato a tutti quelli che possono essere gli strumenti per continuare a fare stemma anche durante l'emergenza sanitaria in generale per continuare a fare lezione anche durante l'emergenza sanitaria trovate tutti i contenuti che abbiamo proposto ne abbiamo proposto uno al giorno a partire dal 26 febbraio scorso quindi davvero tantissimo da vedere da approfondire sul blog innovation for education c'è una pagina dedicata i contenuti sono raggruppati per macro tema quindi che ne so ci sono riflessioni sulla ripartenza le trovate tutti insieme appunto lezioni sulle stem le trovate tutte insieme e così via quindi potete tranquillamente approfondire solo i contenuti che vi interessano di più quindi vi consiglio assolutamente di vederlo oltre al blog dove trovate al di là di webinar anche tanti video utili lezioni pronte e insomma tutorial vi ricordo scusate che proprio nel blog trovate una sezione dedicata al rientro a scuola più pratica quindi non che non racchiude solo i nostri webinar ma tutte le soluzioni che abbiamo pensato adesso attivamente per non più fermarci solo a riflettere ma protenderci attivamente verso quello che ci aspetta il 14 di settembre a quanto pare e che ci riempie insomma di gioia e trepidazione soprattutto per i più piccoli che sono la fascia d'età a cui credo vi risvolgiate voi visto il webinar che state seguendo vi ricordo che per in particolare per la il rientro a scuola per la protezione la sicurezza in questo momento ci sono a disposizione diversi finanziamenti diversi fondi attivati sia dal ministero che da attività regionali locali se avete bisogno di aiuto rispetto a questi fondi che comunque ai quali comunque abbiamo dedicato delle pagine di approfondimento sul sito campus tour che saranno cliccabili insomma quando vi arriva la presentazione in generale però se avete bisogno di supporto per sviluppare di progetti rispetto a questi finanziamenti sapete che possiamo essere sempre a vostra disposizione trovate appunto tutte le nostre risorse già pronte sul sito campus tour e sul blog innovation for education se invece volete una consulenza personalizzata ovviamente gratuita è un servizio che mettiamo a vostra disposizione anche rendendoci conto del momento e del fatto che più di tanto non ci si può vedere di persona qui avete tutti i contatti dei colleghi che sono i responsabili di zona e che sono proprio proposti ad aiutarvi e sono a vostra disposizione potete scrivergli una mail o contattarli telefonicamente qui vedete anche le loro belle facce così se volete dare un volto umano anche a distanza penso possa aiutare quindi l'unica cosa che vi resta da fare individuate nella cartina più o meno dove si trova il vostro istituto e contattate la persona di riferimento al di là di queste macro aree appunto per le quali vi possiamo aiutare assolutamente anche a distanza sapete che la nostra rete di installatori e di assistenti tecnici è presente in tutta italia quindi molto più capillarmente e quindi se avete bisogno anche di installazioni materiale eccetera eccetera anche in estate anche immediatamente abbiamo proprio dei centri specializzati in in ogni regione e in quasi tutte le province quindi il mio messaggio come sempre vuole essere semplice chiaro siamo a vostra disposizione anche a distanza sempre presenti se andate nel sito campus tour trovate un sacco di informazioni anche su questi fondi per l'appunto scusate se vi ho rubato del tempo ma penso che siano informazioni utili per tutti in questo momento in cui davvero davvero ci sono tante tante suggestioni e anche tante possibilità che si stanno aprendo ma ci può essere anche tanta confusione quindi il nostro obiettivo è esservi a fianco anche in un momento così complesso a questo punto entrerei nel vivo della spiegazione di oggi e lo fai non con le mie parole ma con le parole di jason che è il il cuore pulsante del webinar di oggi Dear educators, students and parents in Italy I'm Jason Wang, founder and CEO of Makeblog At Makeblog Education our mission is to empower educators around the world to bring computer science STEAM education into their classes and we do this by providing a continuing of solutions that make learning engaging and accessible to all in this special event we are proud to announce the Makeblog home trail initiative an opportunity for educators in Italy to discover our hardware and share their ideas with the rest of the world in this occasion we focus on early stage education with one of our latest solutions mtiny with mtiny we aim to help educators in giving their young students their first access to technology develop their social emotional skills and all this by using play as the foundation of early learning we want educators to explore the possibilities that mtiny offers and consider how it can be taken into their classes by sharing their experience with others we hope that more people in the educational community become aware of the value and the possibilities that our tools can bring to the way of learning and how easy and fun it is to make it happen we are very excited that you take part of this initiative and we look forward to to learn from your experience thank you okay come avrete capito appunto da questo video di jason c'è un'opportunità molto bella che si apre per voi oggi abbiamo infatti deciso di avviare la sperimentazione con mtiny quindi abbiamo pensato di proporvi un progetto dedicato ai più piccoli per quelli insegnanti della scuola di infanzia e dei primi due anni della scuola primaria ne selezioneremo a partire da oggi una trentina quindi potete tutti voi che ci state seguendo i vostri colleghi i vostri amici potete fare domanda semplicemente come cliccando sul link che trovate qui quando vi sarà inviata la presentazione appunto tra un paio d'ore o cliccando nel link che troverete direttamente nel corpo dell'email comunque lo pubblicheremo anche nei nostri nelle nostre pagine social e riceverete una newsletter dedicata potete appunto dovete compilare un form velocissimo veramente sono tipo cinque minuti per compilarlo e l'opportunità che avete di ricevere direttamente a casa vostra gratuitamente un mtiny da sperimentare con cui fare attività e soprattutto da portare in classe a settembre per per fare per rendere più adrenalinico più divertente più entusiasmante il rientro in classe per voi ma soprattutto per i vostri studenti quindi quello che vi consiglio personalmente è di compilare il form indicarci essere il più dettagliati possibili nella compilazione delle dei vari campi che vi sono richiesti che però sono brevissimi in particolare raccontarci nella vostra bio cosa fate e come utilizzereste insomma questo questa soluzione davvero innovativa per i più piccoli che li aiuta a sviluppare si competenze legate al coding quindi pensiero computazionale capacità di risolvere problemi di porseli problemi capacità di affrontare l'errore ma che li aiuta anche a sviluppare la loro percezione di quello che è il mondo emozionale quindi uno sviluppo proprio del riconoscimento emotivo e delle emozioni questa cosa magari la approfondiremo insieme in un incontro dedicato aperto tutti voi proprio in parte la vedrete comunque più più avanti nella nella seconda parte di questo webinar infatti per rendere più ricco e ancora più entusiasmante l'intervento di oggi abbiamo chiesto a una delle nostre trainer preferite paola mattioli insegnante della scuola d'infanzia e insegnante di cinese e insegnante stem in tutto l'istituto mary mount di roma di di raccontarci un po di come lei già utilizza in tiny con i suoi piccolini e quindi nella seconda parte del dell'incontro di oggi ci prepara proprio delle idee di lezioni che vi consiglio di non perdervi assolutamente come lo vedete qui è davvero un robot si è in tiny ma ha anche un impatto forte proprio a livello di inclusione di attrazione da parte dei bambini immediatamente rispetto a questa soluzione e per parlarvene direi che non ci penso io ma ci pensa innanzitutto mirella mariani che è proprio il regional manager del sud europa di make block buongiorno mirella e benvenuta buongiorno lisa e grazie grazie per questa introduzione mi presento sono mirella mariani sono l'ultima arrivata di make block come diceva lisa siamo usciti da poco dallo status di start up ci siamo organizzati ci stiamo organizzando crescendo e vogliamo essere al vostro fianco sempre di più vorrei presentarvi brevemente alcune cose riguardo a make block education innanzitutto stressare il concetto già espresso da jason riguardo alla nostra mission siamo qui per aiutarvi a rendere computer science e steam accessibile a tutti con degli strumenti che sono volti proprio a preparare il growth mindset che è difficile da tradurre proprio quella quella esperienza quella mentalità volta alla crescita all'andare al di là a non fermarsi alle semplici challenge ma andare sempre un po oltre proprio per preparare la nuova generazione le nuove generazioni a risolvere i problemi che sono proprio richiesti dalle competenze del ventunesimo secolo il problem solving la collaborazione eccetera 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 come lo facciamo con una serie di strumenti vi faccio vedere un po tutto quello che offriamo non è tutto qua però insomma il la maggior parte delle delle linee di prodotto che proponiamo delle soluzioni educative sono sono racchiuse qua il bello è che si parte dalla scuola dell'infanzia per arrivare a dei dei gradi più alti quindi ci piacerebbe proprio prendervi per la mano adesso in quanto insegnanti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria ma accompagnarvi negli anni mtani è il primo prodotto che proponiamo non mi dilungo perché lo farà meglio di me sicuramente la professoressa mattioli che già lo utilizza adatto proprio alla scuola dell'infanzia i primi anni della scuola primaria per il pensiero computazionale lo sviluppo socio emotivo una programmazione senza schermo quindi sono i primissimi passi proprio all'interno del del coding si passa poi ad un altro simpatico robottino amichetto che si chiama codi rocky più specifico per le scuole primarie dove si utilizza un vero e proprio software di programmazione che l'em bloc sicuramente molti di voi avranno partecipato ai ai alla formazione steam on board di cui parlava anche lisa durante le settimane passate è un software molto semplice basato su scratch quindi i primi passi proprio nel mondo della della programmazione c'è una grande interazione con l'elettronica il tutto completato da una serie di attività didattiche da noi proposte si passa poi all'em bot che è forse un po il robot un po più conosciuto in questo in questo momento è anche il primo con cui me blocca ha iniziato per le scuole primarie e secondarie si assembla molto facile da assemblare la programmazione è più avanzata però parte da un livello sempre molto basso quindi programmazione a blocchi con scratch e poi si passa anche ad arduino si e poi è lo code che è una piccola scheda programmabile con un modulo wifi incorporato permette di fare attività di intelligenza artificiale internet of things è un piccola una piccola scheda portatile appunto quindi permette di anche esplorare quello che sono proprio i device portatili l'hardware è molto potente interattivo anche in questo caso una programmazione molto semplice con con scratch per arrivare a qualcosa di più complesso con con python in questi pochi anni di presenza sui vari mercati europei abbiamo già avuto parecchi riconoscimenti che ci inorgogliscono ci danno forza di andare avanti intanto un protocollo d'intesa proprio in italia firmato con l'ufficio scolastico regionale dell'emilia romagna proprio per il progetto simon board per delle scuole pilota che si occuperanno di una sperimentazione proprio in classe con con i bambini siamo partner della iu code week e di future classroom lab che sono due attività di european school network siamo partner di alcune università che con noi sviluppano contenuto si occupano di formare insegnanti l'università di colonia quella di tokyo l'aiden la texas woman university for joint research and development projects quindi collaborazioni che per noi sono molto preziose ci danno anche quel quell'autorevolezza per rivolgerci poi agli insegnanti e poi siamo partner del del prestigioso istituto fra un offer tedesco con cui appunto siamo siamo collaborando per per vari progetti la partnership più importante per quanto riguarda all'italia ed è una collaborazione breve ma lunga nel senso che esiste da vari anni da quando make block ha iniziato a proporsi al mercato italiano da sempre abbiamo scelto campus store come nostro partner di riferimento qui avete alcune immagini che abbiamo alcuni scatti rubati a varie attività dove appunto campus store ci accompagna per la dimostrazione di prodotti nei vari eventi che purtroppo in questo momento sono fermi ma che fino all'anno scorso abbiamo abbiamo fatto insieme per esempio la maker fair di roma dove è possibile approcciare i prodotti e fare delle brevissime dimostrazioni per riuscire un po a capire come funzionano e avere voglia di esplorare sempre di più le competizioni di robotica make ex anche queste si sono svolte a durante la maker fair di roma vedete pierluigi lanzarini il ceo di campus store con jason bang appunto il nostro il nostro ceo competizioni di robotica molto di successo le stiamo proponendo online comunque speriamo di poterle riprendere fisicamente diciamo al più presto e poi appunto vedete una formazione di alcuni insegnanti dell'ufficio scolastico dell'emilia romagna durante appunto la presentazione di m tiny che è lo stesso lo stesso prodotto che vi stiamo invitando a a provare questo è da parte mia io spero di di ricevere presto tantissimo contenuto da parte vostra mi auguro che riusciate a creare anche fra di voi una piccola comunità e quindi ad avere scambi utili fra di voi e passo con gioia la parola alla professoressa paolo mattioli che vi racconterà la sua esperienza diretta con il nostro amico m tiny buon lavoro a tutti e buon divertimento grazie grazie mille mirella si è stata gentilissima e chiarissima nel nel raccontarci un po quello che ci aspetta e adesso ci aspetta ovviamente la più straordinaria delle maestre la maestra delle maestre la paola mattioli che molti di voi probabilmente già conoscono come formatrice di campus tour academy oltre che come creativa che è capace di unire veramente una dimensione molto tecnologica gli albili illustrati i disegni e le storie all'elettronica e alla robotica chi meglio di dei poteva raccontarci m tiny buongiorno paola e la parola la passiamo a te buongiorno lisa e grazie allora avvio subito la presentazione iniziamo a parlare di m tiny un attimo solo di pazienza che si carica perfetto allora m tiny è uno dei miei robot preferiti e perfetto per i bambini per i bambini piccoli della scuola dell'infanzia è un robot che si presta a tantissime attività va bene sia per i bambini della scuola dell'infanzia ma anche fino alla prima seconda primaria senza problemi secondo me e i bambini grazie a questo robot possono acquisire concetti fondamentali e in un periodo sempre più digitale ma attraverso attività manuali anche in questo caso parliamo di programmazione tangibile il robot sappiamo in questo panda dalla forma un pochino quadrata che si gestisce attraverso una questa penna che c'è di fianco nell'immagine e dei blocchetti di di frecce che che servono a realizzare le sequenze e è un robot estremamente interattivo stimolante e divertente per i bambini dal momento in cui lo tirate fuori dalla scatola sia voi che i bambini lo adorerete e per iniziare vorrei farvi vedere questo video dal sito di m tiny dove si possono vedere alcune delle cose che lui fa e poi le commenta ma voi ecco qui qui già vediamo una delle prime cose gli occhioni di m tiny quindi abbiamo già visto delle cose importanti del robot innanzitutto questi occhioni enormi che sono la parte più attraente per i bambini perché questi occhi esprimono delle emozioni e questo è una una delle caratteristiche molto molto importanti di questo robot vedete adesso nel fermo immagine ci sono due tesserine di colore viola quelle che sono due delle tesserine che servono ad esprimere emozioni io vi assicuro che sia che tutti quanti i bambini nel momento in cui lui fa gli occhi a forma di cuore oppure gli gira la testa tutti i bambini sono estremamente coinvolti dal vederlo e quindi qui stiamo parlando di un set per la robotica ma c'è l'aspetto dell'emozione che secondo me è una caratteristica vincente poi vi ho fatto vedere che su questo tavolo ci sono alcune delle tessere che servono a realizzare la mappa quindi queste tessere sono puzzle e questa è già una delle prime attività che i bambini fanno perché sono delle tessere double face quindi hanno da un lato queste sono di colore verde e ci sono alcuni elementi e qui vediamo c'è la giostrina dei cavalli c'è la torta e su ciascuna di queste tessere lui fa qualcosa ad esempio quando arriva sulla tessera con la torta di compleanno canta happy birthday e questo suscita veramente tantissimo tantissimo interesse da parte dei bambini perché c'è un enorme effetto sorpresa dall'altro lato adesso continueremo a vedere il video c'è invece l'immagine di una città ma non è una cosa banale costruirla gli stessi adulti insegnanti che magari incontro nei percorsi di formazione o anche colleghi con cui ho usato questo robot non si riesce subito a costruire tutto quanto il piano della città perché perché ci sono i marciapiedi ad esempio da considerare e se tu metti il marciapiede dove il robot deve passare il robot si blocca perché all'interno di queste tessere ci sono dei feed e quando il robot ci passa sopra legge l'elemento quindi il robot chiaramente è preprogrammato per non andare sul marciapiede deve percorrere la strada e andiamo avanti poi vi dico altre cose oh no ho sbagliato scusate torno indietro un fatto non stata una pasticciona lo mando avanti ecco queste sono le tessere come funzionano noi abbiamo questa tessera curva con la bandierina che richiama molto la programmazione di scratch quindi immaginate bambino piccolo che in nella scuola dell'infanzia a parte che si può usare scratch junior però ai cinque 4 5 anni in prima ha utilizzato questo robot sicuramente quando lo porteremo ad usare scratch avrà già comunque sia preso confidenza con lo strumento poi ci sono queste frecce che le frecce gli altri elementi che servono alla programmazione che si mettono uno di fianco l'altro come faccio a far camminare il robot con la penna io tocco ogni tassello toccherò poi il tassello tondo che vedete nel fermo immagine con la bandierina e il mio robot cammina perché questo perché io nella sequenza gli sto dicendo quando toccherò la bandierina tu vai avanti gira a sinistra vai avanti e poi tocco la bandierina chiaramente per far partire la sequenza ecco avete visto una delle emozioni del robot quando ha fatto questa risatina quando è riuscito ad arrivare all'obiettivo questa è la mappa della città se vedete all'interno è come se fossero due rettangoli uno dentro l'altro all'interno c'è il marciapiede se io metto male quelle caselle il robot non ci va sopra quindi devo tenere conto della del fatto che il mio robot deve fare il percorso della strada qui poi quando arriverà ad esempio sulla casella della polizia c'è la sirena della polizia perché ci sono tipo i ladri vicino e all'ambulanza c'è il lui farà gli occhi a forma della croce rossa e poi c'è il suono dell'ambulanza insomma ci sono vari elementi che fanno comunque sia attivare l'attenzione dei bambini ovviamente non si illumina la tessera qui in questo video è stata messa in evidenza dal grafico in questa maniera per farvi capire che c'è un suono c'è un feed in quella tessera possiamo giocare con più robot sulla stessa mappa ogni robot si collega alla sua penna controller grazie al bluetooth se in classe avete un set classe e dovete accendere più robot il consiglio è quello di accenderne e collegarne uno per volta altrimenti rischiate che un robot si colleghi ad un'altra penna all'interno della scatola ci sono anche tutte queste mascherine che possono aiutare la fantasia del bambino a creare altri personaggi abbiamo un panda mascherato da gatto se avete visto il bambino del video in questo caso sta utilizzando la penna del controller un po' come i joystick del videogame perché il robot ha anche questa funzione più io spingo, agito la penna e più lui andrà veloce quindi i bambini qui stanno facendo una gara con i loro tre M-Tiny perfetto bene allora vediamo quello che può fare questo M-Time ci aiuta ad esercitare il pensiero logico ci sono attività estremamente coinvolgenti che appunto aiutano i bambini a sviluppare il pensiero logico attraverso che cosa? attraverso tutte le sfide che io posso decidere di mettere in atto nelle quali loro devono cercare di raggiungere l'obiettivo ma sicuramente ci saranno casi in cui sbagliano e vedere l'errore li aiuterà ad analizzarlo e quindi anche ad imparare forse di più perché l'errore è importantissimo in questo tipo di attività un tappo per imparare il coding programmazione tangibile grazie alla penna allora nel video c'erano questi tasselli uno di seguito all'altro in realtà se sono staccati e li toccate funziona comunque chiaramente quello che serve ma che secondo me elaboreranno è anche una sorta per i bambini piccoli specialmente una sorta di plancia dove appoggiarli perché visivamente il bambino ha la necessità di vedere la sequenza noi a scuola lo abbiamo usato facendo con un cartoncino giallo abbiamo realizzato lo spazio dove i bambini potevano mettere in sequenza i tasselli e questo ha facilitato molto quindi questo è un piccolo consiglio di come potete risolvere poi chiaramente i blocchetti davanti ai bambini devono essere divisi in gruppetti per stessa freccia quindi avrò il gira a destra tutti insieme la funzione insieme la vai avanti insieme perché altrimenti un bambino di 5 anni che deve cercare nel disordine dei blocchetti si troverebbe in difficoltà poi possiamo realizzare attività cross-curricolari che aumentano chiaramente l'interesse dei bambini qui abbiamo la possibilità di adoperarci per la musica la matematica, l'inglese, c'è lo storytelling ci sono delle risorse a tema per sviluppare appunto le intelligenze multiple non ci sono schermi che distraggono i bambini dal focus dell'attività è una programmazione tangibile quindi io programmo con i blocchetti con la mia penna controller ed è molto carina anche quell'attività che avete visto nel video di utilizzare la penna controller per aumentare la velocità del robot si lavora sulle emozioni questa è la parte, l'aspetto che più mi ha colpito di questo robot quando l'ho utilizzato visto la prima volta perché il robot nel nostro immaginario comune noi pensiamo al robot sempre come qualcosa a qualcosa di freddo se noi parliamo di robotica emotiva chiaramente ci possono essere diverse opinioni perché c'è chi magari è spaventato e arrabbiato per un robot che può provare sempre che prova delle emozioni ma ci può essere anche invece un aspetto secondo me molto coinvolgente per applicarsi appunto nello studio della robotica perché il robot un robot tipo questo diventa sicuramente molto molto meno freddo e mi attrae, mi coinvolge e anche mi incuriosisce perché sono incuriosito io al bambino dal vedere quello che lui può fare quando noi l'abbiamo utilizzato a scuola l'ho utilizzato con i bambini di 5 anni praticamente ogni giorno costantemente chiedevano di poterlo rifare perché si sono divertiti tantissimo e secondo me in quelle attività loro hanno imparato tantissimo innanzitutto hanno imparato a collaborare perché avevamo un robot quindi i bambini rivisi in coppia la maestra pone una sfida il gatto, ho visto la mascherina del gatto ho detto il gatto il panda deve arrivare sulla tessera con la torta di compleanno perché è la festa degli amici e devi farlo arrivare lì i due bambini insieme costruivano la sequenza e cercavano di arrivarci se c'era un errore veniva in soccorso dopo aver provato se proprio non riuscivano veniva in soccorso la seconda coppia e così via quindi loro hanno imparato a collaborare tra loro si sono approcciati anche alla matematica se volete perché c'è la ripetizione quindi io gli dico vai avanti di tre passi quindi c'è anche il concetto della ripetizione e della programmazione stessa chiaramente c'è l'aspetto artistico perché nella scatola ci sono queste mascherine che vedete nel video ma in realtà i bambini disegnano loro i costumi per il robot quindi con la carta, lo scotch realizzano loro i costumi per il robot e può diventare qualsiasi cosa e diventando un altro personaggio ci può raccontare qualsiasi storia la scatola è veramente ho fatto una slide con quello che c'è all'interno è veramente ricchissima ci sono anche queste portabandierine che si agganciano praticamente nella parte laterale del robot ci possono veramente inventare tantissime tantissime attività vediamo un attimo questo video che riguarda l'aspetto dell'emozione ecco come avete visto quando il robot è passato sulla casella della polizia ha fatto sia il suono che gli occhi il simbolo diciamo della polizia e poi ci sono queste mascherine il panda è diventato in un caso il cane il gatto ci sono degli elementi da trascinare ci sono tantissime cose che possono rendere perfetto vado avanti ok questo è uno schema riguardo le intelligenze multiple e quello che posso fare grazie a questo robot ci applichiamo nella parte della linguistica perché possiamo anche mettere in piedi dei giochi di ruolo con i nostri robot chiaramente la cosa più bella sarebbe averne più di uno in classe il set classe sarebbe fantastico meraviglioso ci sono dei rapporti anche il lavoro di squadra tra i bambini io immagino se io dovessi avere una set classe dividerei i bambini sicuramente in piccole squadre e ogni piccola squadra potrebbe inventare una storia oppure due squadre insieme così hanno due robot che possono interagire con i robot possiamo mettere in piedi dei veri e propri spettacoli possiamo ad esempio dividere i bambini nel gruppo che racconta la storia eventualmente sarà sia in italiano che in inglese se non sono troppo piccoli o comunque sia se è semplice ci sono i bambini che fanno i costumisti i bambini che si occupano della scenografia e magari gli elementi della scenografia perché no potrebbero essere disegnati e stampati con la stampante 3D l'aspetto della scenografia anche potrebbe essere un grosso cartellone disegnato con gli spigoli che si mette intorno alla plancia dove cammina il robot e ci sono poi il gruppo dei programmatori quindi vengono messi in campo tantissimi interessi dei bambini perché magari c'è il bambino che gli piace di più disegnare il bambino che gli piace di più programmare il robot e tutti insieme realizziamo un qualcosa di nostro un qualcosa di unico quindi i bambini in questo caso lavorano sicuramente con il senso dell'indagine perché c'è un senso di scoperta non sono io maestra che dico loro come si deve fare che frecce devono toccare ma se io gli dico portami il robot dalla casella di partenza alla casella con la torta di compleanno devi scoprire quali sono le frecce che servono e poi nella programmazione appunto c'è la programmazione c'è tanta matematica in questo e loro riguardo sono bambini piccoli quindi solitamente se noi parliamo di geometria per bambini piccoli stiamo parlando di muoversi nello spazio e con il robot chiaramente loro apprendono le direzioni avanti e indietro il fatto di girarsi imparare che quando il robot si gira non è che si gira e cammina se io voglio che si giri e cammini glielo devo dire non è scontato quindi anche far capire che tutte le sequenze di programmazione che possiamo scrivere devono essere estremamente chiare non c'è nulla di sottointeso nella programmazione e poi anche grossi abilità possono sviluppare anche abilità fisiche anche grazie a questo speciale controller che non serve soltanto al tap sopra la freccia per farlo muovere ma può essere un vero e proprio controller per aumentare la coordinazione dei bambini con questo robot noi possiamo realizzare dei giochi coinvolgenti le interazioni possibili di questo robot aumentano l'interesse dei bambini nel coding nella matematica, nell'inglese e nella musica e sono facilitati nel risolvere dei problemi pratici attraverso un approccio quindi cross-curricolare che sviluppa il loro pensiero divergente chiaramente poi tutto quello che loro apprendono con il robot potrebbero, possono e ci lo auguriamo anche riportare alla realtà quindi quando ci troviamo ad esempio a dover effettuare un percorso quello che io ho appreso con il robot posso metterlo nella realtà magari facciamo dei percorsi in palestra per dire che si passa quindi dalla robotica all'unplugged e quello che io ho imparato con la sequenza con il robot lo metto in gioco nei percorsi organizzati dalla maestra in palestra in questo caso in questo robot non c'è uno schermo per programmare ma abbiamo detto che ci sono questi blocchetti che vengono toccati dalla penna e il fatto che non ci sia uno schermo libero ai bambini da qualsiasi distrazione e sono pienamente coinvolti nell'utilizzo del robot nell'esplorazione e apprendimento attraverso il coding allora questo è tutto quello che c'è nella scatola che secondo me è una caratteristica vincente perché quando prendiamo il robot per la prima volta dentro ci troviamo tantissimi elementi che possono aiutare la nostra fantasia nella creazione di attività coinvolgenti per i bambini abbiamo detto che c'è l'aspetto della musica perché come vedete c'è una cartolina un libretto a forma di tastiera di pianoforte sopra ci sono disegnati tre animali un personaggio del clown e poi il pandino stesso voi potete decidere con che verso suonare la tastiera quindi io magari metto il verso del cane e suono la tastiera con il suono del verso del cane oppure clicco il gatto e i tasti che io vado a cliccare con la mia pen controller avranno il suono del verso del gatto molto molto divertente quindi con questo posso portare avanti l'aspetto della musica poi chiaramente ci sono anche queste bandierine no bandierine mascherine per il robot il pulcino il gatto il cane quindi il mio panda può diventare un altro animale se pensate se avete un set classe potete realizzarne tanti anche tanti di più se avete bisogno di altri animali ovviamente sono delle tessere di cartone sagommate quindi potete anche utilizzarli come stencil per creare i personaggi di cui avete bisogno per la vostra narrazione poi se vedete in alto c'è scritto golf game card perché c'è anche un gioco vero e proprio ci sono queste tessere del golf che hanno sempre questi feed all'interno che quindi le rendono interattive con l'uso del robot e si può fare una gara a giocare a golf utilizzando la pen controller quindi invece di lanciare la pallina lanceremo il nostro povero un tiny e a seconda dell'intensità che io metto come facevano i bambini nel primo video che ho mostrato il mio robot arriverà più più vicino alla buca ci sono poi queste 36 tessereine per programmare il robot e vi ricordo quelle viola sono quelle dedicate alle emozioni la mappa abbiamo visto che ha due lati da un lato è verde con una serie di elementi dove il robot farà qualcosa dall'altro lato c'è la città ovviamente non sono obbligato a costruire il tappeto intero immaginate di lavorare con i bambini piccoli della scuola dell'infanzia anzi il fatto che non sia un grande tappeto ma io posso iniziare da non so nove tessere per dire per far capire loro la direzione di avanti indietro come muoversi fate conto che se lo fate con i bambini di quattro anni non è che hanno chiaro il distinto destra e sinistra però potete utilizzarlo magari dicendo gira verso la finestra gira verso la maestra barbara per dire quindi possono essere date delle indicazioni e può essere comunque utilizzato poi all'interno ci sono sempre c'è un libretto con delle avventure del panda del piccolo panda M-tiny e potete ripercorrerle insieme ai vostri ai vostri bambini c'è un supporto che si può inserire nella parte laterale del robot dove si mettono delle bandierine che sono quelle che vedete di lato al supporto otto bandierine anche in questo caso potete chiaramente realizzare delle sfide immaginate di mettere non so adesso c'è la bandierina del gelato ok io chiedo ai bambini che il mio robot porti il gelato a casa perché c'è una tessera con la casa e quindi posso organizzare delle sfide anche in questa maniera poi da non sottovalutare secondo me il caricatore è fantastico perché voi all'interno della scatola avete due cose da caricare sia il robot che la penna e hanno messo un unico filo che poi si divide che vi permette con una spina di caricare entrambi gli elementi che questa non è una cosa da sottovalutare primo per i tempi brevi brevissimi che abbiamo a scuola e anche per lo spazio non so voi io ad esempio nella mia classe avevo una spina una presa della corrente quindi questo chiaramente mi permette di caricare nello stesso tempo entrambi i robot e secondo me è un grosso vantaggio una cosa da non sottovalutare e questi sono alcuni bambini della mia scuola peccato non potervi mostrare i volti la bambina era praticamente innamorata del robot come vedete il percorso noi l'abbiamo fatto fare ai bambini stessi hanno messo loro le carte come volevano sulle carte quelle che vedete il pulcino dove ci sono gli animali fa il verso di quell'animale e poi ad esempio nella casa va a dormire quindi fa il verso dello sbadiglio che va a fare il pisolino sul bambù mangia e altre cose qui eravamo proprio nei nostri primi tentativi infatti vedete che ancora non c'è sotto il cartoncino giallo e stavamo esplorando io stessa esploravo con i bambini come si potesse utilizzare e poi pian piano grazie al feedback dei bambini abbiamo aggiustato il tiro e capito come era meglio utilizzarli quindi secondo me la cosa migliore è quella di sperimentare insieme ai bambini perché queste sono cose che i robot sono pensati per loro non sempre magari sono alla portata dei bambini che noi abbiamo in classe e invece usandoli insieme a loro vedendo le cose da migliorare quello che possiamo fare noi possiamo sicuramente come si dice adattarli a quella che è la nostra classe anche per gli obiettivi che vogliamo che vogliamo sicuramente raggiungere e quindi mi ripeto soltanto prima di salutarvi è un robot estremamente interessante perché permette di lavorare sulle emozioni perché permette anche di lavorare sulla coordinazione tra il movimento e quello che vedo ci sono nonostante sia un robot per la scuola dell'infanzia c'è la possibilità di lavorare sulla loop sulla ripetizione le tessere con questi feed all'interno sono fantastici e potete lavorare come ho detto prima spaziare con la fantasia sicuramente sull'aspetto della narrazione c'è la matematica c'è la programmazione veramente siamo un robot di stimolo per le intelligenze multiple io ho terminato vi ringrazio per avermi invitato a parlare di mtiny che è veramente uno dei miei robot preferiti e ripasso la parola a Lisa per salutarvi grazie grazie mille grazie mille paola sei sempre meravigliosa ci è piaciuto tantissimo devo dire che si vede quanto ti piace mtiny decisamente ci hai trasmesso tutto il tuo entusiasmo devo dire che amo molto anch'io la parte delle emozioni che penso sia unica rispetto a un supporto tecnologico pensiamo sempre ai robot come fredde macchine invece di poter lavorare con i più piccoli ovviamente che devono un po' anche lavorare proprio sullo sviluppo vedere sorriso felicità eccetera eccetera anche grazie a un robot è molto molto bello quindi grazie mille per le tue idee per la tua energia e per l'entusiasmo che ci ha regalato anche oggi auguro a tutti quelli che ci seguono un'ottima serata vi ringrazio davvero e buon coding a tutti grazie Paola grazie e buona serata a tutti grazie a tutti